Buongiorno Berti, mi dia la sua impressione di questa prima giornata di giunta regionale? Una prima giornata dove abbiamo sentito per ora i programmi, parole da parte del Presidente e della giunta. Adesso però sono molto curioso di vedere se seguiranno i fatti. Quando io sento parlare di taglio e costella politica, quando sento parlare di consumo zero del suolo o quando sento parlare di rilancio del lavoro è ovvio che noi apriamo le nostre orecchie, però siamo sempre molto attenti che questo seguano i fatti. Infatti noi siamo qua per rilanciare, noi vogliamo un'agenzia veneta anticorruzione, noi vogliamo che ogni singolo euro dei cittadini venga capito dove e come viene speso. Noi vogliamo che la legge venga rispettata prima di tutto nei confronti dei veneti e penso alle persone della Piedemontana, gente che oggi sta subendo espropri, si trova fisicamente le ruspe in casa e non ha ancora visto un singolo euro. Questa agenzia dovrebbe già iniziare in questi mesi o ci vuole una prassi anche burocratica o amministrativa? No, può essere una cosa velocissima, rapidissima, basta che ci siano delle figure tecniche riconosciute che abbiano diretta e assoluta disponibilità nel poter controllare e vegliare su quelli che sono i conti della regione e soprattutto gli appalti, tutto quello che viene nella gestione degli appalti per capire, ripeto, dove, come e quanto viene spostato il nostro denaro. Bene, lei sarà il nostro ambasciatore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.